Oh madonna! Dove sono? Questo è... Struttura! E tu... Tu sei me! Salve! Quindi mostrante è veramente soltanto tu che parli davanti a uno sfondo bianco? Sì! Wow! Wow! Senti, io avrei delle cose da fare se mi puoi lasciare andare, erare... Sì! Vai a vedere! Fuga di cervelli! Passerai un'ora e quaranta che non dimenticherai mai! Sì! Ah, Yutobi! Eh... Sto cazzo! Volete vedere una cosa disgustosa? Prego! E allora, non fermissimo! Cosa stai facendo in due, feria? Non canterò mai più! MAI PIU! Mancava solo il pappone obeso con il bastone con il teschio e i denti d'oro! Io mi ritrovo con una parte senza denti! Ma sapete qual è il problema del cinema italiano in questo momento? È che non ci sono... Sapete però qual è il problema? È che non importa quanto sia brutto il film! L'importante è riuscire comunque a rimorchiare! Quindi ragazzina! Grazie a tutti.